Ho eliminato gli zombie, quindi per quello dovrei essere abbastanza tranquillo. Fammi ricaricare la magnum. Fammi ricaricare anche questa. Ok, eh... John... Second floor. Cell. È giusto, non dirmi di no. Yeee, è giusto! Ce l'ho fatta. Ah, questa qui è la stanza al piano superiore. No, grazie. Penso di aver aperto tutto. Ora il punto è... Dove devo andare? Perché qui ci sono delle porte chiuse che probabilmente adesso sono aperte. Però non vorrei entrarci e trovare mostri e basta. Proviamoci. Vediamo dove ci portano. Ok, questa è ancora chiusa. Questa è ancora chiusa. Evidentemente quelle lì si aprono in maniera diversa. Gli zombie sono scomparsi perché gli ho dato fuoco. Preferirei andare prima di sopra. Ho sbloccato questa porta. E' una stanza enorme. Presumo, grossi guai ne arrivo. Uno spray. Munizioni. Già, munizioni ma non le prendo per ora. Ho solo uno slot. Grazie. C'è una nota. Una nota. No, un altro disco. Siamo a tre dischi, eh. Vorrei dire. Non posso portarlo con me. C'è altro da fare qua dentro? Sì, è ancora rosso. Eh, ma sarà sempre rosso. Una mappa. La mappa la prendo volentieri. Wow. Ok. Protavoli di sicurezza. Li porto per uso esclusivo. Si applica il casino. Proibito. L'ascensore si blocca. Ok. Ah, Wesker. Senza disattivare la serratura utilizzando tutti i codici di entrata. La serratura viene disattivata accedendo i terminali da gestione dei capo ricercatori. Ok, ho capito. Ok, ho capito. In poche parole mi servono tre dischi per aprire... Per sbloccare tre porte. Giusto? Penso di sì. Ora il punto è che faccio? Perché giù ho una stanza da aprire. Non so, ho qualche slot libero. Non ho più slot liberi. Direi che andiamo a liberarci uno slot. E poi decidiamo dove andare. Perché giù c'è un'altra stanza che si è aperta. Quindi vorrei andare a vedere... Vorrei salvare. Poi dopo vorrei andare a vedere lì. E mi porto dietro il kerosene. Non ce n'è. Ormai è diventato il mio migliore amico. Qui. Droppa il disco. Droppa anche queste due munizioni extra. Mi serve... A sto inchiostratore. Ci sono... Tre dischi. Da usare con... Tre laboratori. Tre capi laboratori. Quindi non so. Visto che vanno usati nei vari laboratori. E non credo che cambi in base all'ordine. Io ne porto dietro uno. Se trovo dove leggere lo uso. Perché tanto sicuramente dovrò farlo per forza. Quindi tanto vale portarsene dietro uno. Però voglio avere il resto degli slot liberi. Per sicurezza. Quindi qua sotto c'ho una nuova stanza libera. Andiamo a vedere dove ci porta. Allora. Di qua e c'è una stanza qua sopra. Ok. Qui ci vanno usati tre dischi. Cioè non vanno usati qui ma lì vedremo gli effetti dei tre dischi. Troppe coincidenze. Tre dischi. Tre cose rosse. E per forza... Qui c'è un nastro inchiostratore. E uno zombie. Fuck off. GG. Sede di bottigliette triangolari. Eh no la chimica non è mia. Fax. Attenzione. È la commissione speciale. Il contenuto di questo fax. Va bene. Va bene. Va bene. Sì. Gran parte degli esemplari. Va bene. Yes. Trovato. Sì. Ce l'ho il disco al mio. Ok. Quindi devo cercare queste scatolette. Va bene. Ne mancano due. Il disco sarà tenuto perché a me evidentemente non serve. No. No. Partiamo col piede sbagliato. Questo cos'è? Filtro. Ok. Ci sono dei proiettili. E ho visto un nastro inchiostratore qua. Sono abbastanza indeciso sull'aprire o meno. Sono... Siamo qui. Apriamo. Sì. Eh. Ah ok. D'accordo. Pensavo che fosse una porta. Per il rifornimento del carburante. Ok. Questo cos'è invece? Filtro di colore rosso. Ok. Quindi devo trovare qualcosa da filtrare. Ok. Questi me li prendo. E non so se aprendo le porte su mi ha chiuso le porte qui. Perché qui non c'è nient'altro. Cioè c'è questa porta qua che però ho bisogno di tre serrature. E ci sono tutte quelle porte in basso a destra che non ci posso andare. Quindi secondo me ci ha chiuso la serratura. No. Dove stai andando? Può essere. Non so però. Direi che ci conviene tornare su e prendere un altro al mio disc. E poi tornare giù. Mi sembra una buona idea. Perché visto che uno l'abbiamo usato ce ne mancano due. Usiamo anche quelli. Su. Comunque come avevo preannunciato ho detto che eravamo quasi alla fine e altre duecento puntate. Ok. Mi conviene salvare visto che mi ha dato cinquantaquattro dei nostri inchiostratori. Non è una cattiva idea. Sì voglio salvare. Grazie. Trentatè. Ho salvato per tipo tre volte qua. Ora. Questo me lo porto. Probabilmente è meglio di sì. E volevo portarmi un disco MO. Ma porca quella mia ombra mi fa sempre cagare addosso con la porta. Poi sta musica qua sotto è ancora peggio. Andiamo qua sotto. Proviamo ad andare nell'altra porta. ammesso che si apre perché se c'è ancora scritta la cosa dell'elettricità mi sa che devo attivare di nuovo questo piano che è il due tre tre sì mi sa che devo attivare di nuovo il tre torniamo qua dentro attiviamo il tre è peggiore dei casi non succede niente non è che qui c'è un lettore di quei cosi no perché mi sembrerebbe il tipo di stanza che potrebbe avere uno di quei lettori però non ne vedo no infatti non ce ne sono è la quattordicesima volta giù 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 ok terzo piano grazie molto gentile eh no mi ha aperto solo quella porta lì c'è qualcosa che mi manca di qua cosa c'è oltre a qualcosa per la vita c'è altro sei sostanze chimiche abbiamo già scoperto che non sei un chimico Chris quando potevamo battere la pianta con la chimica invece tu gli hai voluto sparare contro tutti i proiettili che avevamo eh ok andiamo dritto di qua simbolo dell'elettricità simbolo dell'elettricità roba varia aspetta questa cosa qua non lo so mi sono perso qualcosa da qualche parte è l'unica spiegazione quindi andiamo alla ricerca di questo qualcosa da qualche parte allora la stanza qua sotto è completa il corridoio no perché ci sono oggetti per terra giustamente in questa stanza però c'è ancora qualcosa probabilmente è qualche oggetto che non ho raccolto tipo quelle munizioni quanti slot ho liberi uno vediamo se prima c'è qualcosa devo essere sicuro l'ho già fatto questo bottigliette triangolari questo qui è quello della tensione il carburante può esplodere se è scosso che non ho ancora capito cos'è dispositivo si va bene quello me l'hai già detto poi c'è liquido trasparente si una radiografia una mano no è una mano quella non è una radiografia prendiamo questo e vediamo cosa ci dice ci dice che abbiamo completato anche questa zona quindi non è di qua evidentemente nella stanza al piano di sopra c'è ancora qualcosa qualcosa che c'è sfuggito mamma mia che casino quella porta c'è sfuggito qualcosa dobbiamo solo capire cosa torniamo su mi tengo tutti i slot occupati in caso mi toccherà tornare indietro di nuovo spero sinceramente che non debba tornare indietro di nuovo in questo corridoio ci dice che non è completato perché c'è ancora l'erba che non ho raccolto però qui dentro c'è per forza qualcosa tipo questo coso qua ah ci serve una password ci serve una password oh ho un'idea è un po' pazza però potrebbe funzionare oh grande